Volevo riprendere due cose che sono state sottolineate prima. La benedizione degli attrezzi di lavoro e degli animali e poi l'asta a favore dei poveri. Ecco, sono due aspetti. Quello di pensare a sé, al proprio lavoro, a mantenere la propria famiglia e chiedere a Dio di benedire il proprio lavoro, di benedire il sostentamento della propria vita, ma anche quello di pensare agli altri. A chi ha meno, a chi è povero, a chi è bisognoso. Ecco, la tradizione di benedire gli animali, che adesso diventano animali di affezione, non gli animali che servono per il lavoro dei campi, è come chiedere a Dio di benedire i propri affetti, di benedire i propri sentimenti, di benedire le proprie relazioni con gli altri uomini. Anche a Dio di benedire i proprii affetti, Cosa è aperto? Cosa è aperto? Grazie a tutti.